Musica Stamattina a Settecamini inizia una splendida avventura. Ci sono i cantieri per completare un tratto stradale qui nel piano di zona di Settecamini. Contemporaneamente a Monte Stallonara, dall'altra parte della città e a Massimina stanno partendo altri due cantieri per realizzare opere primarie e secondarie in piani di zona fermi ormai da quasi 20 anni. Con questa iniziativa la Regione sblocca definitivamente questa partita. Siamo intenzionati a portare opere che servono ai cittadini di quei quadranti per essere fino in fondo cittadini di questa città e non più cittadini trascurati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!